Buongiorno a tutti, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra attualità. Oggi parliamo di prostituzione, ma ci occupiamo di questo tema da un punto di vista piuttosto inusuale nel nostro paese, quello c'è del cliente. E per parlarne presentiamo i risultati di un seminario che si è svolto per due giorni, ieri e l'altro ieri, al gruppo Abele, alla fabbrica dell'E di Torino, che ha coinvolto forze dell'ordine, operatori sociali, sociologi, psicologi, interrogandosi appunto sui clienti dei rapporti sessuali a pagamento, chi sono, che cosa cercano e perché. Di tutto questo parliamo con la nostra ospite di oggi, Ornella Obert, responsabile area vittime e vulnerabilità appunto del gruppo Abele. Buongiorno, grazie per essere con noi quest'oggi. Allora, intanto i dati che voi avete presentato in queste due giorni sono naturalmente delle stime perché il fenomeno è molto complesso e anche molto sommerso, però un primo dato stimato che mi ha colpito molto è relativo al numero dei clienti in Italia, sarebbero 2 milioni e mezzo. Intanto come siete arrivati a questo dato? La stima, diciamo che rispetto a questo numero negli anni si sono susseguiti tanti numeri, da numeri veramente enormi a numeri decisamente più contenuti. La stima del 2 milioni e mezzo è calcolata in base alla presenza di prostituzione in strada moltiplicata per circa 10 rapporti al giorno quotidiani e quindi poi con un sistema di moltiplicazioni si arriva a una stima proiettata sull'anno che farebbe pensare a circa 2 milioni e mezzo di clienti, sapendo che è un dato però assolutamente relativo perché quello che noi conosciamo è in particolare la prostituzione di strada, mentre invece molto poco si sa della prostituzione ancora più sommersa che quella che viene esercitata al chiuso o nei locali e poi il grande mondo di internet che comunque negli ultimi anni è cresciuto molto rispetto all'offerta prostitutiva e quindi quando si parla il dato numerico è sempre richiesto, è importante, però dobbiamo sapere che siamo su un terreno che assolutamente non è identificabile e numericamente preciso. Avete provato anche a stimare il giro d'affari che sta dietro alla prostituzione? Beh, dietro al giro d'affari noi non abbiamo provato a fare le stime, ma le stime sono veramente enormi, di un mercato dal punto di vista economico e che muove interessi economici enormi, soprattutto in questi ultimi anni dove si è spostato anche molto nel mondo del virtuale e vada in qualche modo anche a sovrapporsi al mondo della pornografia, per cui è un mondo e un mercato in aumento, in rapida espansione. Voi avete però invece provato a tracciare l'identikit appunto del cliente, questo sconosciuto, era appunto il titolo del seminario che noi abbiamo preso in prestito per la trasmissione di oggi perché è assolutamente efficace. Sì, in realtà il titolo è ancora più provocatorio perché dice questo conosciuto, nel senso che di clienti si parla pochissimo, quando si parla nei grandi dibattiti sulla prostituzione si parla moltissimo di prostitute, anche con una certa guardoneria, con la voglia di sapere, di conoscere, ma in maniera anche un po' torbida, del cliente non si parla mai. In realtà è molto conosciuto questo cliente perché è trasversale a tutte le età, a tutte le condizioni sociali, quindi non è neanche tanto giusto parlare di cliente quanto di clienti, perché sono tanti, anche se i numeri poi sono stati ridimensionati e bisogna sottolineare che ci sono moltissimi uomini che non vanno con le prostitute, perché poi quando si fanno le inchieste, le indagini con i grandi numeri sembra passare il messaggio che allora è una cosa che nel mondo maschile è usuale, invece noi dobbiamo dire che sono molti, anzi la maggioranza, gli uomini che non si accompagnano a prostitute, però quelli che ci vanno sono tanti, sicuramente forse sono in aumento perché comunque questo mondo anche del consumo corrisponde al mondo del consumo di oggi, però si tratta di clienti che possono essere molto giovani, così come me molto anziani. Crescono, è vero che crescono il numero degli anziani, non sono cresciuti negli ultimi anni? Sì, c'è un numero in crescita degli anziani e anche dei giovani, una volta si diceva che erano più i singoli e meno gli uomini sposati in un rapporto da 70 a 30, oggi sembrerebbe che siano il 50 e il 50. Di ogni estrazione sociale possono essere uomini eterosessuali, omosessuali, possono essere uomini diciamo insoddisfatti rispetto alla sessualità, ma altri che invece questo dato non lo riportano. Ecco, è un mondo veramente trasversale, quello della prostituzione ma così come quello degli utilizzatori. Certo, che svolgono immagino tutte le professioni, ci sono anche certi tipi di ceti sociali più o meno interessati. Sicuramente ecco, bisogna sfatare il mito per cui la persona che va a prostitute sia una persona degradata in qualche modo appartenente a ceti sociali meno elevati, perché non è così, è assolutamente trasversale. Ho letto però che è aumentata, secondo diverse ricerche, il numero di clienti che vanno in cerca di rapporti con minorenni. Esattamente. Questo ve lo spiegate in qualche modo? Beh, le letture sono molte, vanno dalle letture psicologiche alle letture sociologiche. Sicuramente siamo in un mondo che tende a consumare, a consumare sempre di più e a spostare il limite del consumo. Per cui l'accompagnarsi alla prostituta minorenne rientrerebbe un po' in questo quadro di bisogno di consumare di più. Poi ci sono anche delle teorie che girano un po' nel mondo della prostituzione, cioè che con le ragazze minorenni si sarebbe meno esposti al pericolo di contagio rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili, ma queste sono un po' quelle leggende. In realtà ci sono degli uomini che amano accompagnarsi con ragazze giovani, giovanissime. È un mondo in crescita, le minori oggi in strada, ma anche al chiuso, perché poi in realtà nella strada c'è il contatto magari da parte degli sfruttatori. La ragazza è poi al chiuso e sono in aumento queste ragazze minori. Quello che non si dice, si dice troppo poco, è che è un reato molto grave previsto dalla nostra legge, accompagnarsi con una minorenne, cioè acquistare servizi sessuali da una minorenne di 18 anni, perché poi da qualche anno il limite che prima era di 16 è stato spostato a 18. Di questo si parla poco, bisognerebbe parlarne di più, perché comunque questi clienti, mentre il cliente della prostituzione non è punito nel nostro paese perché la prostituzione non è considerata un reato, invece è considerato un reato molto grave quello di acquistare un rapporto sessuale a pagamento da una minorenne. Certo, su questo poi in effetti tra un attimo volevo riflettere con lei, perché poi l'obiettivo di questo vostro seminario, appunto oltre che tracciare l'identikit del cliente della prostituzione, capire perché effettivamente si cerca sesso a pagamento, poi appunto il vostro obiettivo era anche capire che cosa si può fare, con quali interventi legislativi possono essere messi in atto. Però per restare ancora un attimo appunto al tema dei clienti, Sì, tra l'altro gli italiani hanno anche un primato insomma non proprio come dire lodevole, quello cioè di essere tra i primi turisti sessuali in paesi come il Kenya. Sì, sì, il nostro paese si colloca tra il quarto e il quinto posto rispetto al fenomeno del turismo sessuale, che di nuovo è un fenomeno in aumento, che rientra di nuovo in questo quadro di consumo, di disponibilità, per cui mi sposto per acquistare in altri paesi qualcosa che qua a me è più difficile. È un reato di nuovo molto grave che il nostro legislatore, in base anche a delle indicazioni, delle convenzioni internazionali, ha voluto introdurre nel nostro ordinamento, che è quello che riguarda in particolare chi organizza questi viaggi. Quindi sono delle agenzie che ahimè sono specializzate nell'organizzare i viaggi verso i paesi dove c'è di più questa offerta di ragazzi molto ragazzi o ragazze molto giovani che praticano la prostituzione. Si trovano magari online queste agenzie? Sì, si trovano online, c'è tutto un passaparola anche rispetto ai luoghi dove trovare i ragazzini, che tipo di sessualità andare ad acquistare.